La variante Omicron avanza, attesi giovedì, dati sull'Italia, i contagi aumentano e il governo Draghi pensa a nuove misure in vista delle festività. Proseguono in commissione bilancio al Senato le votazioni sugli emendamenti alla manovra in stand-by la riformulazione del superbonus al 110%, proroga di 180 giorni per il pagamento delle cartelle esattoriali. Il Mezzogiorno può assumere un ruolo di guida nello sviluppo del fotovoltaico e dell'eloico, lo dice la Svimez, secondo cui l'incidenza su prodotto interno lordo sarebbe particolarmente significativa in Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna. L'edizione di Mezzogiorno ben ritrovati negli studi di TG2000. Dunque il governo è al lavoro sui prossimi provvedimenti per limitare la diffusione del virus. Giovedì sono attesi i dati aggiornati sulla presenza della variante Omicron in Italia. Facciamo il punto con Alessio Orlandi. La corsa del virus sta riprendendo forza nel nostro paese, spinta probabilmente anche dal diffondersi della variante Omicron. Ieri oltre 16.000 contagi, ma con un minor numero di tamponi analizzati come di consueto dopo il fine settimana. Salgono purtroppo i decessi, 137. Il governo è al lavoro su una possibile stretta per le festività natalizie, ma per decidere eventuali ulteriori restrizioni, Palazzo Chigi aspetta i risultati del sequenziamento a campione chiesto dal Ministero della Salute per capire quanto è diffusa nel nostro paese la nuova mutazione del virus. Nulla è ancora deciso, le parole ieri del Premier Draghi, anche se sono diverse le ipotesi sul tavolo nella cabina di regia di giovedì prossimo, dall'ulteriore riduzione del Green Pass a sei mesi all'obbligo di mascherina all'aperto, fino al tampone anche ai vaccinati per accedere a stadi, concerti e discoteche. Una decisione quest'ultima, cui si oppongono le regioni che sono invece divise sull'obbligo vaccinale. Governo e tecnici starebbero ragionando se estenderlo anche a tutti i lavoratori a contatto con il pubblico. Le amministrazioni locali nel frattempo corrono ai ripari per frenare i contagi, alcune come la regione Lazio, introducendo l'obbligo di mascherina all'aperto durante le feste, altre imponendo più spesso i tamponi agli operatori sanitari, altre ancora annullando gli eventi in piazza legati al Capodanno. Intanto ieri l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera al vaccino della Novavax a base di proteine. Si tratta del quinto siero contro il Covid autorizzato in Europa con un'efficacia di circa il 90% anche se sono limitate le evidenze nel contrastare le ultime varianti del virus. I nuovi casi Omicron sono stati confermati in Alto Adige, com'è la situazione a Bolzano? Lo chiediamo in diretta all'inviato. Fabio Bolzetta, a te Fabio. Sì Barbara, buongiorno da Bolzano. Secondo giorno del Trentino, Alto Adige, completamente in zona gialla, mentre due nuovi casi di variante Omicron sono stati registrati. Si tratta di una donna al rientro da un soggiorno all'estero non vaccinata che non presenta al momento dei sintomi e poi la madre con sintomi lievi. Quindi situazione circoscritta ad un unico nucleo familiare al momento che viene monitorata. Come la situazione degli ultimi contagi, in calo come ogni lunedì senza nessun decesso ma in aumento soprattutto nella faccia della popolazione tra i 19 e 39 anni. Ma come conciliare il desiderio e la necessità della ripartenza anche economica e altamente simbolica alle porte del Natale con la sicurezza? Ne abbiamo parlato con la direttrice dell'azienda Turismo e Soggiorno di Bolzano, Roberta Agosti. Ecco le sue parole e poi la linea da Bolzano tornerà in studio a Roma. Volevamo proprio dare anche un segnale positivo nei confronti dell'economia ma soprattutto nei confronti dei nostri ospiti che da una città come Bolzano così come dagli altri mercatini originali dell'Alto Adige si aspetta di vivere questa atmosfera natalizia particolarmente curata nelle città alle nostre latitudini per cui siamo stati veramente felici di poter proporre questa edizione nuova, diversa naturalmente le casette sono più distanziate ci sono molti decori fra le casette, alberi di Natale decorati proprio per dare modo ai flussi di non intercettarsi troppo abbiamo dovuto limitare il numero delle persone che entrano in questa zona delimitata e naturalmente organizzare dei controlli della certificazione verde agli ingressi e devo dire un grazie soprattutto agli ospiti perché chi è venuto e ha potuto accedere alla piazza ha ringraziato, non ha mai dato segni di impazienza o di così, di insofferenza nei confronti di questi controlli anzi la gioia di entrare e vivere un momento così particolare nella piazza principale di Bolzano ha superato tutte le difficoltà La cronaca adesso ci porta a Palermo dove un'infermiera su richiesta dei Novax svuotava il vaccino contenuto nella siringa in una garza e poi faceva finta di iniettare la dose eccole le immagini a scoprirlo sono stati i poliziotti della Digos che oggi hanno fermato tre persone accusate di corruzione falso-ideologico in atto pubblico e peculato la donna era in servizio al lab vaccinale della Fiera del Mediterraneo 400 euro sarebbe stata la tariffa per sottoporsi alla falsa vaccinazione e quindi ottenere il Green Pass il contagio spinto dalla nuova variante corre anche in Europa feste vietate in piazza a Londra il servizio di Federico Plotti Con oltre 90.000 nuovi positivi al giorno e con gli ospedali già in allarme il Regno Unito tra i paesi europei che fino ad oggi hanno adottato le misure meno restrittive pensa adesso addirittura ad un lockdown subito dopo Natale la variante Omicron si diffonde velocemente e spinge in sui contagi triplicati nel giro di 48 ore l'emergenza sanitaria rischia di sfuggire di mano e il primo ministro Boris Johnson deve prendere presto una decisione la situazione è difficile e prova a spiegarlo ai britannici in un videomessaggio registrato dopo la riunione di governo di ieri convocata in fretta e furia per valutare nuove restrizioni per il momento però non è stato deciso nulla se il governo aspetta non lo fa il sindaco di Londra Sadiq Khan che per far fronte al drastic aumento dei casi nella capitale inglese ha intanto annullato ogni festeggiamento per il Capodanno e chiuso diversi siti e musei cittadini e se il Covid rischia di fermare tutta la Gran Bretagna non lo farà con il calcio la Premier League andrà avanti anche durante le feste confermato dunque il calendario e il tradizionale Boxing Day di Santo Stefano nonostante i contagi stiano falcidiando squadre e tifosi a Parigi adesso dove è stato arrestato l'uomo con problemi psichiatrici che ieri sera aveva preso in ostaggio due donne madre e figlia in un negozio nel dodicesimo arrondissement non ci sono feriti ha scritto su Twitter il ministro dell'interno ringraziando la prefettura di polizia e le forze speciali e siamo alla politica quindi rientriamo in Italia in commissione bilancio al Senato la votazione sugli emendamenti alla manovra vediamo come è andata con Augusto Cantelli è corsa contro il tempo per l'approvazione in commissione bilancio della manovra attesa in aula al Senato alle 15 a bloccare il cammino ancora lo scontro tra governo e maggioranza sul provvedimento più atteso il super bonus edilizio al 110% con la cancellazione del tetto Isee di 25.000 euro per le villette unifamiliari ma l'intesa sarebbe stata trovata diverse comunque le novità portate nel voto notturno viene prorogato il super bonus fino al 2025 ma per le aree colpite dal sisma dall'Aquila al centro Italia nella manovra viene prolungato da 60 a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle sattoriali notificate nel primo trimestre del 2022 con la manovra arriva anche lo stop al pagamento della cosiddetta tassa sui tavolini per bar e ristoranti per i primi tre mesi del 2022 via libera anche al rinvio di due anni fino al 2024 dell'entrata in vigore dell'IVA per il terzo settore inoltre vengono stanziati 10 milioni per i proprietari di case occupate abusivamente veniamo al rapporto presentato da ISPRA sui rifiuti urbani ogni anno ogni italiano produce in media 488 kg di rifiuti la produzione pro capite più elevata è quella dell'Emilia Romagna con 640 kg per abitante per anno pur se in calo del 3,5% rispetto al 2019 nel 2020 quindi l'anno del lockdown in Italia la produzione è calata del 3,6% rispetto all'anno precedente torniamo adesso al mortale incidente sul lavoro avvenuto a Torino sabato incidente in cui hanno perso la vita tre gruisti domani comincerà la rimozione delle due gru crollate in via Genova lo ha stabilito la procura che indaga su quanto accaduto da decidere ancora la data dei funerali delle tre vittime il giorno delle esecue il sindaco ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino ci spostiamo in Birmania dove un'inchiesta della BBC conferma la brutalità dell'esercito negli ultimi mesi è stata ritrovata una fossa comune con resti umani Marco Burini che il regime militare birmano sia spietato e abbia trattato la popolazione con disprezzo e violenza l'avevamo già constatato in questi mesi a partire dal primo febbraio giorno del colpo di stato che ha messo fine all'esperimento democratico in Myanmar ma la recente scoperta di una fossa comune con una quarantina di corpi nella regione centrale di Sagaing come riporta la BBC fa fare un salto di qualità alla crudeltà dell'esercito birmano il famigerato Tamado che soprattutto nelle zone di campagna lontane dai grandi centri come la capitale Yangon per contrastare la resistenza organizzata nelle forze di difesa del popolo annienta la popolazione raid aerei interi villaggi incendiati o rasi al suolo blocco degli aiuti medici e alimentari arresti indiscriminati e stupri la cosiddetta strategia dei quattro tagli che l'esercito birmano usava già negli anni 60 contro i comunisti e la minoranza etnica dei Karen i cui guerriglieri oggi addestrano in campi segreti mimetizzati nella giungla gli attivisti e i civili che sono disposti a prendere le armi contro il regime del generale Aung Ming Lai ben sapendo cosa rischiano i corpi carbonizzati trovati nelle fosse comuni anche di minorenni portano segni di mutilazioni e torture dall'inizio del colpo di stato le vittime della repressione sono almeno 1300 migliaia i feriti e gli incarcerati tra cui Aung San Suu Kyi che due settimane fa è stata condannata a quattro anni ma sta subendo altri processi prossimo verdetto il 27 dicembre Ampliare le opportunità di lavoro dignitoso che è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità è la ricetta del Papa per uscire dalla crisi provocata dalla pandemia e quanto emerge dal messaggio per la 55esima giornata mondiale della pace appunto sul tema dialogo fra generazioni educazione e lavoro strumenti per edificare una pace duratura la giornata come ogni anno per volere di Papa Paolo VI si celebra il primo gennaio David Murgia ci parla adesso dell'ultimo rapporto Svimez secondo cui il Sud farà da guida per lo sviluppo delle energie rinnovabili Sarà in mezzogiorno ad assumere il ruolo guida per lo sviluppo del fotovoltaico e dell'eolico lo sostiene un report della Svimez presentato questa mattina che ha calcolato gli investimenti necessari per poter attivare i nuovi impianti eolici e fotovoltaici 82 miliardi di euro a livello nazionale di cui 48 da destinare alle regioni meridionali questa mole di interventi genererebbe su scala nazionale un incremento nel valore della produzione di 148 miliardi di euro cioè per ogni euro di investimento se ne creerebbero 1,8 nell'intero sistema economico il valore aggiunto addizionale sarebbe invece pari a 55 miliardi di euro gli investimenti complessivamente ipotizzati sarebbero tali da attivare nell'intero periodo 373 mila occupati aggiuntivi di cui 156 mila nelle regioni meridionali e la parte restante cioè 164 mila in quelle del centro nord l'incidenza sul PIL sarebbe particolarmente significativa in Basilicata con il 17,3% in Molise con il 10,3% in Puglia con l'8% e in Sardegna con il 5,8% lo sviluppo delle energie rinnovabili è una delle finalità primarie riassunte anche dall'Italia per partecipare agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050 posti dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea Natale con il maltempo a partire dal 24 dicembre un ciclone porterà una perturbazione atlantica nel nostro paese previste piogge diffuse da Toscana a Liguria verso il resto del nord con nevicate sulle Alpi la perturbazione scivolerà poi verso il centro sud il 25 lo chiamano il pastore volante e in Australia raggiunge i suoi fedeli con un piccolo aereo una storia che ci racconta Maurizio Dischino la parola di Dio non ha confini e non conosce ostacoli nelle remote desertiche aree dell'Outback dell'entroterra dell'Australia grande 25 volte l'Italia arriva dal cielo anche attraverso un velivolo monomotore Cessna è la chiesa volante di padre Dave padre David Shrimpton 57 anni pastore della Uniting Church da tutti conosciuto anche come pastore volante per la passione di guidare gli aerei che si porta dietro da quando era bambino dopo un anno di restrizioni a causa dell'emergenza Covid padre Dave sotto le feste natalizie ha ripreso a decollare da Broken Hill per raggiungere i suoi fedeli per portare loro una parola di vicinanza e soprattutto per ascoltare tutto sembra aprirsi quando si ha l'opportunità di passare del tempo con le persone nelle loro case con i ragazzi nelle piccole scuole remote è bello riconnettersi con queste persone e far sapere loro che non sono state dimenticate ha confidato padre Dave durante una sua visita a Punkeri dove ha incontrato anche gli unici cinque alunni della locale scuola pubblica tagliata fuori pure da internet è tempo di celebrare il senso del Natale ha condiviso padre Dave quel senso dello stare insieme come una famiglia che non abbiamo vissuto lo scorso Natale adesso ci sono più possibilità di viaggiare di recuperare il ritardo di passare del tempo insieme è tutto vi lascio al meteo e a terza pagina poi ospiti di Paola Saluzzi all'ora solare sono la geriatra Silvia Giovannini e Alessandro Cossu del Tribunale del Malato l'informazione di TG2000 torna alle 14.55 buona giornata